Alla diciannovesima edizione del Brodetto Fest a Lido di Fano per tre giorni ci saranno tanti eventi, abbiamo contato oltre 50 eventi che per tutti i gusti, dai bambini, dalla promozione del pesce per i bambini fino alle due grandi novità in questi tre giorni, tante riconferme poi per quanto riguarda i personaggi presenti al festival, tanti chef che si alterneranno sul palco centrale al Palabrodetto, in questi tre giorni ci saranno anche delle novità molto importanti, tra le quali ne cito due perché vorrei che i fanesi venissero a Lido proprio per gustare la Moretta che avrà il lancio definitivo, dopo tanti anni crediamo di lanciare l'immagine della Moretta per tutti i fanesi e non solo, visto che si alterneranno tanti barman al Lido di Fano in una gara per la valorizzazione di questa bevanda tipica della nostra città. L'altra grande novità per il quale dico solo è da venire a provare è la pizza col brodetto, la pizza col brodetto perché abbiamo incaricato una nota pizzeria di Fano di costruire se vogliamo la pizza con il brodetto e il risultato vi posso garantire che è veramente eccezionale, perciò in questi tre giorni si avrà la possibilità di gustare tante tipicità del nostro territorio, oltre chiaramente al brodetto, ma anche tante altre cose ce n'è per tutti i gusti e invito chiaramente non solo tutti i fanesi a essere presenti qui a Lido in questi tre giorni, da oggi a domenica.